Oh, salve ragazzi, eccoci, eccoci. Allora, come vi ho promesso, partiamo da Azzuncena e poi facciamo Leo. Era un po' basso il volo, scusate. Azuzera vede il King of Iron Fist Tournament come un modo di mantenere la sua tragettoria di successo. Dicevano i molti prodotti che aveva avuto durante le tassi, ha deciso di join the Tournament e di aggiungere la espansione globale Ortiz Farms. Nada meglio che luchar per inspirare il desarrollo di nuovi produttori. Vabbè, ci sta. È un nuovo personaggio, normale che ci sta. Mi sembra un po' una scopieziatura del personaggio che si vede in Street Fighter V, però dettaglio. Wow, Yoshimitsu. Anche lei è un bel modo di combattere. Ok. Ahia, no. Bella. Invece qual'era? L'altra era così. No, questa è la stessa. Allora, al contrario. Invece di ascoltare come fa? È sembra la stessa. Eh no, dai. Non volevo guardare. Vabbè, stasera. Siamo per rispondarsi. Ok. Oh, che relazante! Oggi, qual è la tua bebita favorita? Round 1 Non c'è niente di venire di una tazza di caffè, è bellissima! Dai, non è la risposta Non è che lei non è fondata a uno set di combattimento non mi ricordo vabbè anche il quattro sacerdote era l'altra cascina mi ricordo che tecnicamente lei è un miscuglio ok bel colpo tu vieni si si parli con uno che praticamente si piglia il caffè con lo zucchero e oltretutto bevesse l'acqua pure dopo quindi quanto sono brutta una brutta persona attanto round one fa affrontare tutta gente di vario tipo e qui su boss fight finale spero che sarà proprio quello che penso lei o che onestamente ci sta perché tanti devo usare il mio bello volevo vedere bella è questo che volevo fare eccola qua ecco un'altra mostra che sa fare è il tuo cuore 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 ok ho sbagliato vediamo se faccio un po' così che si riesce ok voglio fare il special con lei ok ok semifinale ok ok che relazante oye qual è la tua bevita favorita rap riuscire Jack Jack originale è bellissima è una persona normale poi l'ha fatto robotica ok ok ah vedi è perfetto bellissima va dire è quello che si metto perché vediamo se non è però ok ora non è è bella Perfetto in nuovo, perfetto, che figata, non ho scompito mai Ok, vedi a chi affronto con il boss, ok? Io penso a lei, che l'ha affrontato nella storia, poi non lo so Lili? Uh la la, Lili si affronta Mmm, che relajante Oye, qual è la tua bambina favorita? Il tè, è la migliore boisson Round 1 Fai! Ma hai da picchiarla solo per quello che hai appena detto, sappilo Ecco Meriti un'è deciso palese, praticamente Tutte mosse a combo di trese, praticamente Vedi? Proprio tutte quante Ecco, così impari, mi insica Round 2 Te lo meriti Per quello che hai appena detto, infatti, te te lo meriti Una schiaffezza di tutti i modi Te lo meritavi, a prescindere, scusa Il caffè è lo miglior Eh beh, era la risposta per quel contesto Io sono il campeone! Non Il faut du thé per farlo a repà questo rochefort rose coltivato su nostra terra è davvero divina di che parlano? è ovvio che è un café nostra mezcla di azucena è la migliore oye qual crees che è il migliore? non pareci interessare nessuno dei due ah, già sai che tal se lo mescliamo ah, cosa può fare? ho parlato di una boisson di questo genere in azale allora è di appropriazione non sei senti quada qui c'è un piccolo extra tadaan che tal questo? ti auguro che funzionerà mia inspirazione non mi falla ah? sabbia che seria bueno mette un'ansia azucena avrebbe avuto di vendere questo drink a global acclaim è inquietante ho visto una cosa inquietante signori è stato inquietante e boh vabbè leo che c'è il cortel ok mi sono sospettato che c'è un'anima Sì, sì, dodo! Sì, sì, dodo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.